Oggi vi faremo vedere come facciamo il fondo bruno. Mettiamo la carne nei recipienti. Una volta che la superficie della carne inizia a caramelizzare, aggiungiamo il burro in quantità tali da poter coprire la carne. Aggiungiamo aglio, scalogno, rosmarino, timo, salvia. Una volta che tutto è caramelizzato, bagniamo con del fondo bianco. L'idea è quella di bagnare tre volte. Così facendo, concentriamo il gusto. Bagniamo e finiamo con una remuglie. Copriamo ancora con del brodo, se necessario, fino ad altezza. Deve rimanere in sobollizione per due, tre ore. Tiriamo fuori dal fuoco, lo passiamo al chinois. Il liquido scende, il grasso restante smonterà in superficie, lo leviamo. Facciamo ridurre la salsa a consistenza disidrata come addensante. Il kuzu ci permette di avere una salsa limpida, ma allo stesso tempo legata. Lo usiamo per accompagnare delle costine di agnello.